La tecnica di Genfield o esperimento di Genfield è un metodo sviluppato da parapsicologi per eliminare gli stimoli sensori dell'ambiente nel corso di un test sulle esperienze ESP. Consiste nel collocare comodamente un ricevitore in una sala con delle pareti fonoassorbenti, mentre un rumore ad esempio non fastidioso come un soffio viene traspesso attraverso l'auricolare. Gli occhi vengono coperti con delle palline da ping pong. Queste sono tagliate a metà in modo che il campo visivo sia uniforme, mentre nello stesso istante in un'altra stanza un trasmettitore guarda più volte un videoclip selezionato a caso da un computer su un monitor. Il trasmettitore cerca di inviare le impressioni del videoclip al ricevitore. Al fine della seduta al ricevitore vengono mostrati quattro videoclip, uno dei quali è quello visto dal trasmettitore. Una seduta riesce quando il ricevitore, l'uomo test che fa l'esperimento, sceglie il videoclip giusto. Tale esperimento avrebbe avuto una buona percentuale di casi riusciti ISP.